Dal Donbass i volontari mi hanno mandato questi giorni un po' di video di aiuti che stanno portando ai bimbi. Comunque sono iniziate le scuole in questo momento e quindi gli hanno portato anche qualcosa, qualche materiale scolastico. Vi metto un paio di video che mi hanno mandato e poi dopo ci ritroviamo qua che vi spero. Vi ho chiede in una famiglia, tre non-lattanti, anche due produttive produttive produttive. Ci sono i passi in un paio di Trodowski, è 12, e abbiamo un po' di canzegrazione, non c'è un po' di canzegrazione, Ci sono i albumi, i pластиllini, in segno, tutto ciò che è per gli studenti che andano in scuola. Dette, a come situa la situazione? Scusate. Scusate? 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 Scusate. Scusate? Scusate, è praticamente 10 minuti di Александровco Yani è competito nella gravesza, quindi sono ok. � ore si acquiste alla quartology na платvacc alla�니다. Loro 10 minuti su survivevano, l' seminario in sicurezza. Loro incopriamo in talolante ci sono gli studenti di tutelare perché èividades che dei sindi次 comprarci. Dottobли sc Riporti Grazie a tutti, ciao Sì, sono iniziate le scuole, quindi grazie un po' ai contributi che arrivano si riesce ad aiutare questi bimbi anche per il discorso scolastico, perché è importante che comunque tra virgolette si ritorni alla normalità. Questo volontario opera di più nella zona più pericolosa, che comunque costantemente sono sotto bombardamenti, mentre l'altro volontario che stiamo aiutando agisce un po' più nella zona, diciamo più all'interno, dove comunque tra virgolette è un po' più tranquilla. È assurdo che nessuna televisione parli di questo, nessun media parli di questo, la situazione è sempre costante di bombardamenti, anzi speriamo adesso che con il signor Biden che si è andato via dall'Afghanistan non si concentrino magari di più qua e l'escalation aumenti. È assurdo che dei bambini vivano in queste situazioni, che la gente vive in queste situazioni, è assurdo che in Europa abbiamo ancora oggi qualche situazione, delle situazioni del genere e che non trionfi la pace. È assurdo, tutto assurdo come la gente non possa andare d'accordo fra di loro. È veramente, sono cose terribili a pensare nel 2021. Io ringrazio tutte le persone che ci danno una mano per questa situazione e non solo per questa situazione.